Gico, se vuoi giocare da professionista, non puoi vergognarti di chi sei. Dei, quelli non hanno nemmeno le scarpe! Stoppa questa! Mostraci cosa accade quando hai il coraggio di accettare chi sei veramente. La storia di un bambino che non aveva niente. Devi divertirti, Gico. Tutto il resto verrà da sé. Ed è diventato una leggenda. Vincerò io una Coppa del Mondo, papà. Tele dal 26 maggio al cinema.